Raga aspettate Non dite cose offensive Uno, due, tre, cos'è il regalo? Con il grido di battaglia fanno il loro ingresso in campo Eh le borracce Adesso c'è un minuto di riflessione a centro campo disposto dalla federazione Il direttore di gara della sezione di Chieti Controllate il pallone? Controllate il pallone, i portieri?